Una panchina rossa come simbolo per contrastare la violenza sulle donne, per sensibilizzare l'intera cittadinanza, grandi e piccoli, ma anche per ricordare a tutte le vittime di violenza che non sono sole. Taglio del nastro questa mattina alla panchina rossa di Polesella, in contemporanea con altre 50 comuni del Veneto. Nella provincia di Rovigo sono stati 10 i comuni che hanno deciso di aderire, Ariano nel Polesine, Calto, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Crespino, Corbola, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Taglio di Po, per lanciare un messaggio contro la violenza di genere. Presenti i ragazzi delle scuole medie, il vice sindaco di Polesella, Consuelo Pavani, il sindaco dei ragazzi, Matilda Trombetta, e i rappresentanti dell'Università Popolare e dell'Hauser. Grande l'impegno da parte dei volontari Hauser che hanno coinvolto studenti e docenti degli istituti scolastici e hanno personalmente realizzato le panchine che ormai in tante città italiane sono divenute il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Siamo sempre stati molto attenti come amministrazione a questi temi e siamo contenti che anche qui a Polesella ci sia questo simbolo, ha affermato il vice sindaco. Anche il sindaco dei ragazzi si è detta molto soddisfatta dell'iniziativa, inserita all'interno del progetto TACI Teatro, Arte, Cultura e Inclusione contro la violenza sulle donne, perché ognuno dei presenti, indipendentemente dall'età, è sicuramente in grado di pensare a un caso di violenza sulle donne e questa, nel modo più assoluto, è una circostanza da cambiare. Dopo i discorsi istituzionali, un momento simbolico ha preceduto il taglio del nastro ad opera del sindaco dei ragazzi Trombetta. Due giovani studenti delle scuole medie di Polesella, un ragazzo e una ragazza, e il presidente dell'Università Popolare, hanno completato assieme la scritta sulla panchina, come a sodalizio dell'Unione di tre diverse generazioni nella lotta alla violenza sulle donne. Sulla panchina rossa, con la scritta No violenza e tre punti esclamativi, è stata posta anche una targhetta per ricordare tutte le associazioni e gli enti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto. Ma non solo, compare infatti il numero 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking a cui rivolgersi in caso di pericolo. La classe delle medie, assieme a tutti gli altri presenti, si è poi spostata per inaugurare il secondo simbolo dedicato dalla città di Polesella, un murales interamente dipinto dall'artista Alessandra Carloni, dal titolo Cuore Nomade. Una testimonianza artistica che ricorda incessantemente il sostegno delle città alle vittime, ma che vuole anche essere un monito e un insegnamento alle generazioni presenti e future per dire no alla violenza sulle donne.